Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Reaper Plus Case di Cecco. Ecco, seguite questo video fino alla fine perché alla fine sarete in grado di prendere un qualsiasi file audio e dividerlo nelle sue quattro componenti principali, che sono la voce, la batteria, il basso e tutto quanto il resto. Questo è molto utile ad esempio se siete un batterista e volete togliere dalla traccia audio soltanto la parte di batteria per poterci suonare sopra, o al contrario vorreste poter prendere solo la traccia audio di batteria per poterla studiare e magari trascrivere, imparare e quindi suonare in maniera molto più efficace. Stesso discorso vale per un bassista o per un cantante, magari volete provare a cantare su un brano che vi piace togliendoci la voce e quindi mettendo la vostra. La tecnica che sto per andare a spiegarvi, ve lo permetto già, non è una tecnica nuova per musicisti o per addetti ai lavori ma al contrario se vi state affacciando solo di recente a questo mondo, questo video fa sicuramente per voi. Prendete in considerazione la possibilità di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina che vi permette di essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video perché potrebbe succedere che ci siano delle cose di cui voi non siete minimamente a conoscenza e che qui non cerchereste mai all'interno di un motore di ricerca ma del quale venite informati semplicemente seguendo il canale. Bando alle ciance, andiamo in sessione e vi spiego come fare. Ok, allora benvenuti in sessione. La prima cosa da fare è entrare in questo sito che vedete sullo schermo che si chiama moises.ai, vi lascio il link sotto poi in descrizione. Registrare, nel mio caso sono già dentro col mio account, voi potrete scegliere vari modi di registrazione sempre i soliti o via Facebook o via Google oppure una nuova registrazione con una mail che potete scegliere voi. Dopodiché vi ritroverete in questo schermo in cui vi dice appunto carica traccia. Ah, riguardo le registrazioni, moises vi consente di fare cinque conversioni di file al mese. Questo significa che se voi entrerete in moises con account diversi potrete fare praticamente conversioni illimitate. Comunque intanto sono cinque. Quindi carichiamo la mia traccia. La traccia che ho scelto di caricare è una traccia fatta da un artista di nome Assecorto che anzi vi invito a scegliere che sicuramente non mi darà problemi di diritti nel farlo vero a sentire. Quindi magari la prima cosa che facciamo è ascoltare questa traccia. Quindi il mio ringraziamento speciale che faccio ad Assecorto per avermi dato la possibilità di utilizzare il suo brano. Un brano molto bello, interessante, indie pop. E vi invito chiaramente ad andare a seguirlo attraverso i suoi canali Instagram e Facebook che vi trovate in descrizione qua sotto. Grazie Assecorto. Sentite la traccia è composta da basso, chitarra, batteria e tra poco interarà anche la voce. Ascoltiamo un attimo. Ok, quindi una traccia rock normale con questi cinque elementi fondamentalmente. Quindi selezioniamo la nostra traccia, in questo caso una WAV ma funziona anche con gli mp3, facendo carica traccia e facciamo separazione traccia. Selezioniamo il file, possiamo anche direttamente incollarlo qua. Lui già lo vede e piano piano se lo carica. Volendo potremo anche caricarlo attraverso il cloud, nel caso noi avessimo questa traccia in un hard disk remoto. Dopodiché qui potremo scegliere che tipo di estrazione vogliamo fare per questa traccia. Quindi in questo caso ho selezionato due stems, voce e accompagnamento. Selezionando questa sarebbe perfetto per un cantante, in quanto avremo alla fine due tracce in cui ci sarà da una parte la voce e dall'altra l'accompagnamento. Quindi due tracce, voce e accompagnamento. Noi scegliamo di avere quattro stems, quindi divideremo voce, basso, batteria e altro. Selezioniamo questo pulsante, addirittura scritto in un italiano non corretto, inscriviti. Facciamo inscriviti e lui comincia a macinare. Vi dice la percentuale di caricamento, ci mette chiaramente il suo tempo. Ok, lui adesso vi dirà in coda e comincerà a lavorare. Vedrete che ci sarà questa rotellina che avanza e qui vi comprirà la scritta in lavorazione. Ok, sono passati circa cinque minuti. Chiaramente ho caricato un file WAV un po' pesante, ma il sito ha fatto il suo lavoro. E qui è comparso una frecciolina che va premuta e che ti dice appunto che sono state estratte queste quattro tracce separate, voce, percussioni, basso e alto. Per percussioni chiaramente intende batteria. e qui possiamo scegliere cosa scaricare. Ad esempio la voce. E lui la scarica. Chiaramente ve la scarica nel vostro file di download, come fareste per ogni tipo di registrazione. Sentite che c'è solo la traccia della voce. Le percussioni. Sentite qui, voi batteristi, sentite solo la traccia di batteria. Il basso. Stoppiamo chiaramente la batteria, se no li sentiamo entrambi. Bassisti, qui potete studiare i brani che volete. E tutto quanto il resto. Resto che in questo caso significa chitarra e tastiera assieme. È chiaro che la qualità della registrazione non sarà ottimale. In effetti il software ha fatto una separazione di frequenze. È stato anche molto accurato, però non è una qualità. Però è comunque buona per studiare o per esercitarsi. Oltre a ciò, il sito, siccome ha la vostra mail, vi spedisce automaticamente il prodotto del suo lavoro all'interno della vostra mail. Vedete che qui è mai comparso un file. Con tutte e quattro le tracce separate, pronte per essere scaricate. Io le ho già scaricate perché le ho ascoltate. Molto bene. Ora nella nostra cartella di download, o nella cartella che ho scelto di selezionare al momento appunto del download, avremo questi file che si chiamano in questa maniera. Il titolo del brano che gli avete caricato, con order nel caso di tutto il resto, basso, batteria e voci. Quindi voi avete uno, due, tre, quattro file wow che poi potete lavorarvi come volete. Ad esempio volete aprire la vostra dow, nel mio caso ovviamente parlo di reaper. Prendete questo file, lo importate qua dentro. Prendete anche l'altro file, lo importate. Ne prendete anche due alla volta, tenendo premuto il tasto mela nel Mac e control nel PC e le importate tutte e due assieme. Ovviamente visto che ne state importando due, in questo caso vi chiede sempre se li volete in tracce separate o in un'unica traccia fusa assieme, noi diciamo tracce separate, ecco che abbiamo i nostri ultimi due file importati. Ok? Quindi avevamo un unico file mp3, l'abbiamo separato in quattro tracce distinte, che poi possiamo lavorare ed utilizzare a nostro piacimento. C'è pure il trucchetto di poter accedere al sito con account diversi, quindi avere un numero illimitato di tracce da trattare. Un grazie speciale va ad asse corto per avermi permesso di usare il suo brano dopo una notte per rendere possibile l'esecuzione di questo tutorial. Vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!